Un nuovo capitolo si apre a Santa Sofia de Piro con l'introduzione dell'Eco Compattatore Automatico di Imballaggi in Plastica, presentato durante una conferenza stampa il 23 novembre scorso. Questa innovativa soluzione, promossa dall'ente comunale con il supporto dell'azienda Ecoros, emerge come uno strumento tangibile per promuovere pratiche sostenibili. Un ulteriore servizio che si aggiunge agli altri in corso di implementazione, quindi un ecoraccoglitore automatico di imballaggi che sicuramente incentiverà i conferimenti a fronte del riconoscimento di alcune premialità. Un bottatore è uno strumento che va a incrementare l'efficienza nel servizio di igiene urbana, perché la raccolta della plastica, del PET, stimola il conferimento di questo materiale, anche perché il conferimento rilascia dei punti, degli ecopunti che poi possono essere utilizzati nelle attività commerciali, quindi è uno stimolo in più a fare meglio. L'Eco Compattatore ha già conquistato la comunità con numerosi aderenti fin dai primi giorni. Con questa iniziativa Santa Sofia de Piro si conferma un esempio virtuoso nella gestione sostenibile dei rifiuti, sottolineando la responsabilità ambientale di ogni cittadino. I servizi naturalmente vengono visti dai cittadini come appunto delle opportunità. In quella che è una comunità appunto virtuosa, quale Santa Sofia de Piro, maggiori sono le opportunità, migliori sicuramente saranno i risultati che insieme possiamo raggiungere. Grazie.